I giorni scorsi la Guardia di Finanza di Catania ha dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare reale e relativa a sequestro preventivo di beni e disponibilità per un valore di circa 55.000 euro. Il provvedimento cautelare è emerso come a fronte di un primo finanziamento dell'importo di 20.000 euro sebbe stata elargita nell'arco di nove mesi una somma complessiva di circa 44.000 euro con tasso di interessi e pari al 157% annuale e al 210% mensile. Il giudice per indagini preliminari ha quindi disposto nei confronti di Messina Gianfranco l'applicazione della misura cautelare reale nel sequestro dei profitti legalmente ottenuti, pari a circa 55.000 euro. In Sicilia possono coesistere in modo permanente due centri di cardiocicologia pediatrica come avviene già in Veneto dove la popolazione residente è analoga. Lo sostiene la regione nella richiesta di deroga al decreto Balduzzi inviato al Ministero della Salute. Così resterebbe in funzione il reparto attivo da oltre dieci anni a San Vincenzo di Taormina accanto alla nuova struttura del civico di Palermo mantenendo l'impegno con le famiglie dei piccoli pazienti. Il documento è stato sottoscritto dal Presidente della Regione dall'assessorato alla salute e dai dirigenti generali dei dipartimenti della pianificazione strategica e delle attività sanitari e osservatorio epidemiologico. L'amministrazione regionale ritiene imprescindibile mantenere la funzionalità di entrambe le strutture di eccellenza con procedure di evidenza pubblica. L'operatività della cardiologia pediatrica di Taormina attualmente in convenzione con l'IRCCS Bambino Gesù di Roma è stata al momento prorogata al 31 luglio 2024 su richiesta del Governo della Regione Siciliana e senza la deroga ministeriale sarebbe destinata a cessare. Tra luglio 2023 e marzo 2024 sono stati 165 gli interventi eseguiti nella struttura di Taormina su pazienti provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria, al quale si aggiungono i 167 e il centro del capologo, avviato il 4 luglio 2023 in convenzioni con il San Donato di Milano. Questi dati a supporto della richiesta che testimoniano la validità dell'iniziativa e la sua sostenibilità a garanzia dell'operatività di due poli di cardiologica pediatrica. Nei due centri veneti, secondo i dati inseriti nel programma nazionale ESITI, nel 2022 gli interventi sono stati 264. Sono stati momenti di tensione quelli vissuti a Bianchevilla lo scorso pomeriggio presso un'abitazione situata nella periferia dove un 51enne del posto, disoccupato e pregiudicato, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti immediatamente dopo la telefonata al numero di emergenze da parte della moglie dell'uomo e si è sperata in seguito all'ultimo episodio di violenza subito dal marito. Quando la pattuglia è arrivata ha dapprima tranquillizzato la donna scesi in strada ad attendere i soccorsi e poi i militari sono saliti al piano superiore dal quale si udiva l'uomo inverire i violentamenti contro i familiari. In casi i carabinieri hanno trovato inequivocabili tracce di violenza, mobili e porte rotte, soprammobili in frantumi e cocci di vetro, oltre a un libro che era stato dato alle fiamme in cucina. L'uomo ha cominciato ad avanzare minacciosamente contro i militari dell'arma, insultandogli in cerca di uno scontro, ma l'equipaggio che aveva ben intuito le sue condizioni di alterazione psicofisica a causa dell'abuso di alcolici, non cedendo alle provocazioni con fermezza ma anche con empatia, lo ha ricondotto alla calma. I carabinieri hanno scoperto, ascoltando le dichiarazioni delle vittime, che il 51enne era in stato di alterazione psicofisica, aveva iniziato a inviare contro la propria moglie per futili motivi, passando poi alle vie di fatto e mi dando il lancio di un coltello da cucina all'altezza del viso, non colpentola solo grazie alla prontezza dei fresti della donna. A quel punto una figlia della coppia era intervenuta in difesa della madre, ma era stata anche lei minacciata, quindi le due donne erano uscite a scappare di casa e chiedere aiuto. Sulla base di tutti gli elementi di prova raccolti, l'uomo è stato arrestato e condotto presso il calcio di Catania e Piazza Lanza. Le fiamme gialle della stazione navale di Messina e della sezione operativa navelle di Milazzo, impegnate in una costante attività di vigilanza del litorale, hanno fermato e sottoposto a controllo tre pescherecci impegnati in battute di pesca nelle acque delle rispettive circoscrizioni di servizio. In base agli accertamenti effettuati è emerso che due lavoratori presenti a bordo sono stati impiegati in maniera irregolare. L'equipaggio della vedetta 2062 ha sorpreso in due separati interventi due pescherecci calabresi intenti a praticare la pesca di tipo cianciolo nell'acqua di Capopeloro e di Rodia, sottoposto al suo fondale di gran lunga inferiore a quelli consentiti. Il pescato ancora vivo è stato rigettato in mare a beneficio dell'ecosistema marino. L'equipaggio del G206 finanzieri con Rias, durante il controllo in aggiunta alla presenza dei due lavoratori irregolari, ha riscontrato anche la detenzione di un attrezzo da pesca non consentito, tipo spadara di circa 4.000 metri, che presentava evidenti segni di utilizzo. Alle tre unità da pesca è stata applicata la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro, ai sensi della legge sulla pesca e le tre reti per un valore complessivo di circa 80.000 euro sono state sequestrate per la successiva confisca. Ulteriori provvedimenti di cortazione e punti sulla patente licenza della pesca sono stati intrapresi a carico di comandanti. Alle ore 14.09 del 14 maggio 2024, in occasione del 250esimo anniversario di fondazione della guardia di finanza, il team del SAGF sulla cordiera reale in Bolivia ha raggiunto la cima inviolata e nominata sita a 5.310 metri, nonostante le difficilissime condizioni meteo. La vetta, che da ora assumerà la denominazione di Fiamme Gialle, viene onorata con la posizione della piccozza e coltricolore donata dal signor Presidente della Repubblica. Viva la Guardia di Finanza e viva l'Italia! Nelle previsioni economiche di primavera per l'anno in corso, pubblicate mercoledì 15 maggio, la Commissione europea stima un'espansione dell'economia graduale in un contesto di elevati rischi geopolitici. Insieme a un callo dell'inflazione, nonostante l'aumento dei prezzi delle principali materie prime, come il petrolio. Speriamo che il declino dell'inflazione produce le conseguenze overall, sui prezzi di alimentazione, etc. Questo prenderà qualche tempo. Lo ugualmente importante è che il livello di credito provvedendo da banche, inizia di aumentare, perché questo è importante per fulgare l'economia. Negli ultimi mesi è ancora cresciuta l'incertezza, unitamente ai rischi di revisione a ribasso per le prospettive economiche, principalmente a causa del protrarsi della guerra in Ucraina e del conflitto in Medio Oriente. In queste difficoltze crossroads, dove la crescita è ristratata, si adottate due restricte fiscali stanzi e si perdite parte dei investimenti che sono necessiti. Come evitare questo senza rompere le nostre politiche fiscali e i nostri budget? La mia risposta è ancora la prossima generazione EU. Sul fronte interno, il calo dell'inflazione potrebbe essere più lento del previsto, inducendo probabilmente le banche centrali dell'Unione Europea a posticipare il taglio dei tassi, in attesa che il calo dell'inflazione dei servizi si stabilizzi. La mia risposta è un'immagine più grande, un'immagine più grande per la industria cosmetica in generale è come produrare un'immagine che è basato sulle substanze naturali, naturali materiali. La mia risposta è un'immagine più grande, perché è un'immagine più grande. Quindi è come un'immagine più globale.